Ciao ragazzi, scusate il video a quest'ora del venerdì sera volevo appunto dirvi che stiamo facendo degli importanti aggiornamenti sul server di PartirePer che dopo 15 anni meritava un upgrade e quindi al momento PartirePer non è raggiungibile, non è disponibile non vi potete collegare eccetera eccetera non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, stiamo facendo un major update, stiamo facendo un grosso lavoro di aggiornamento server quindi appena sarà nuovamente disponibile ve lo farò sapere su tutti i miei canali social quindi grazie a tutti, buon venerdì scusate stiamo mettendo il limone dentro la birra ci vediamo domani pomeriggio per la Mega Live e poi domenica intanto vi tengo aggiornati su PartirePer ciao